Ancora un'altra notizia sulla cattiva gestione del patrimonio turistico delle nostre città, che fa crescere il malumore dei turisti che visitano il nostro territorio. Questa volta, ad essere sotto accusa la città di Ragusa, la denuncia arriva dal Laboratorio 2.0 che inizia a preoccuparsi dei turisti che decidono di visitare la città. Dobbiamo sperare, afferma Sonia Migliore, portavoce del Laboratorio Politico 2.0, che i turisti, parlando con i loro amici della terra appena visitata, si limitino a raccontare solo la straordinaria bellezza di cui hanno potuto godere, senza scendere nei dettagli delle brutture, delle chiese chiuse o di un castello che funziona come qualsiasi ufficio anagrafe. Ed è proprio sul castello di Donna Fugata che cresce il malumore, in quanto non basta il cambio degli orari. Infatti, la consigliera Migliore continua chiedendo all'amministrazione perché non si è pensato ad un progetto per la gestione del castello, mantenendo la logistica superiore in capo al comune stesso, ma valendosi del servizio civile nazionale. Oppure, potrebbe spingere per la nascita di un consorzio di cooperativi giovanili, che si occupi della gestione, della custodia e delle guide turistiche, anche in collaborazione con la Facoltà di Lingue dell'Università di Catania. In questo modo, il Laboratorio 2.0 propone di tenere aperto il castello fino a mezzanotte, utilizzando anche porte delle royalties, trattandosi di sviluppo economico e occupazionale ed essendo anche la vera necessità del luogo, poiché è principale fonte di lamentare da parte dei fruitori. Questi sono solo alcuni degli esempi di quello che si potrebbe fare per far rivivere una struttura così importante per la nostra provincia. Tuttavia, conclude Migliore, ci permettiamo di suggerire la rimodulazione degli uffici e settori comunali che in qualche modo sono coinvolti nella gestione del castello di Donnofugata per crearne uno che si occupi esclusivamente di questa struttura. Sarebbe un primo passo e aiuterebbe molto per la programmazione e la gestione del castello stesso. Purtroppo, abbiamo l'impressione che l'amministrazione Piccitto si è troppo impegnata ad inseguire le fantasie pentastellate per occuparsi seriamente di argomenti concreti. Grazie a tutti.